buongiorno 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 buongia buongiorno lunedì buon seconda feria come va qui freddo il cane a italia è arrivato quasi a generale d'inverno ebbene si è arrivato che sta arrivando generale d'inverno sta sfigando le armate e vabbè amici miei domani è santo patrono un falcone la salute l'ultimo giorno di del giorno di scorpione vi auguro una buona giornata mi raccomando fate i bravi iscrivetevi al canale franco tondo su youtube mi raccomando purtroppo avevo dei bei video da fare ma non sono stato autorizzato a postarli su youtube purtroppo po amici miei ieri sera il pomeriggio un bel concerto al colturno dom brato vicina brak 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 a golizia boh a golizia col maestro quel coro di ut e di trimo falcone e boh è un poco soffio anche il fumo boh qua c'è la fermata aspettando la curiara per arrivare premo bene ti auguro vi auguro una buona giornata fate i bravi iscrivetevi mi raccomando saluto tutti dalla nona anto antonella da cagliari antonella da massacrara alla liguria e tutti l'antonella che conosco di riconoscere tanta gente saluto gli amici graziana ivana saluto il mio dolce amica sandra ciao celli e tutte le altre persone hai voglia di fare una lista lunga tutto il dottor vitelli rienti rienti che assoluto saluto anche gennaro mi tutti nella merola big big mister big proprio natural adesso scrive parole e musiche bellissima persona ciao gennaro grazie di tutto l'altro amicizio onorato e vabbè oltre a chiedere vuoi dormire il freddo faccio dormire è letargo peccato perché non è letargo dormire no amici miei vi auguro una buona giornata fate i bravi si voglio bene e a sta vita signora ciao ciao a tutti e mi raccomando iscrivetevi a far conto tutto fate conoscere il canale ciao canti di scemo ringrazio le autorità dei canali mi lasciano pubblica di video ciao a tutti e a presto ciao